... ... ... Mi sa che tutto è cominciato, che noi abbiamo incontrato i metodi naturali, ci sono piaciuti e volevamo raccontarli, parlarne con gli altri, con i nostri amici, con gli altri. Tanti anni fa ci siamo iscritti a un corso che non sapevamo neanche bene che cosa fosse e in itinera abbiamo capito che sarei diventata insegnante del metodo Billings. Noi volevamo poterne parlare con competenza, poi ci siamo appassionati. Tutto è partito da lì, nel senso che diventare insegnante del metodo Billings o comunque dei metodi naturali vuol dire sapere un sacco di cose su come siamo fatti, come funzioniamo e appassionarsi. E da lì ne è uscito anche un po' tutto il resto del discorso che riguarda l'educazione alla sessualità e parlare di questi temi ai ragazzi o ai giovani o alle coppie. Io avevo già cominciato a fare educazione alla sessualità per caso perché sapevo come siamo fatti e come funzioniamo. E quando le mie vicine di casa, le mie cognate avevano i figli dell'età verso l'adolescenza, un giorno, più di vent'anni fa, mi hanno detto se non ti spiega ai nostri figli queste cose qua, delle mestruazioni, dei rapporti sessuali, era anche periodo, cominciava l'EDS, tirali un po' insieme e mi ricordo che avevamo chiesto un'aula in prestito alle scuole medie e io grezzissimamente, mi vergogno di come l'ho fatto, ma mi parlano ancora questi gay, ormai cresciuti, ormai genitori, molti, e ho spiegato e raccontato cosa sono le mestruazioni, cosa succede nel corpo, un po' di cose, pseudo educazione sessuale. Poi per un po' abbiamo chiuso abbastanza il capitolo, finché avevo letto sul bollettino dei metodi naturali svizzeri che nella Svizzera francese facevano un corso che si chiama ancora, perché c'è ancora, ciclo show sul target prime mestruazioni. Mi sono detta, questo sì che è un buon momento, le prime mestruazioni, da noi il tema educazione sessuale arriva in terza media, le prime mestruazioni arrivano prima, perciò la scuola non sta offrendo la risposta alle domande che sorgono, dai facevo un corso per le prime mestruazioni, e poi io avevo una figlia dell'età giusta, e ho cominciato a medesimarmi nel tema, perciò a prime mestruazioni, ma non basta endometrio, non basta spiegare questa roba qua, allarghiamo un po' il tema, ma allora però sarebbe bello che ci fosse anche la mamma, perché io avrei voluto esserci vicino a mia figlia, a parlare di questi argomenti, ma allora sarebbe bello essere un po' in un gruppettino, di modo che ci si arricchisce, e da lì è nata la pensata di un corso in gruppi di mamme con le loro ragazze di circa la stessa età. È bellissimo quando tu inventi un corso, perché già hai il foglio bianco, e dici ok, cosa ci mettiamo dentro, come lo allarghiamo il tema, come lo spiego, e ho inventato le metafore, i modi, che propinavo ai miei figli con la merenda, nel senso, mentre mangiavano, figli e amici dei figli, ma ti spiego questa cosa, quando ho visto che cominciavano a mollare la merenda per ascoltare me, per appassionarsi a quello che succedeva, perché poi mi piaceva farle le cose, più che spiegarle con i disegni, e un giorno una mia amica che fa la ginecologa, mi dice, senti, sei un po' noiosa a parlarne, fallo e basta, ti presto lo studio, ti mando sette mamme con le loro figlie dell'età giusta, prova a farne uno. E ho provato a farne uno, e c'era anche la mia figlia, perciò ero tesissima, perché dovevo gestire il gruppo, gestire la scaletta, tutto quello che avevo pensato, gestire me e mia figlia, quello che succedeva tra di noi, però deve essere andato sufficientemente bene, perché il mese dopo avevo altre sette mamme che volevano farlo, e dopo il mese dopo ancora, e dunque adesso sono dieci anni, dieci anni penso che lo faccia. Tu dici nella tua testimonianza che i ragazzi non è vero che sono superficiali. È vero che qualche volta rischiamo di vedere dei comportamenti superficiali, però se gli si fa parlare, l'aspirazione è sempre della pienezza vera, della bellezza completa. Tutti vorrebbero la relazione bella, duratura, fedele, speciale, unica. Tutti vorrebbero questo. Magari qualcuno poi si accontenta del di meno. Ti accontenti perché in questo momento non hai gli strumenti o magari nessuno ti ha detto che può essere di più. Nella tua esperienza hai incontrato molti giovani. I giovani cosa vogliono? Vogliono essere autentici, essere felici, una vita piena, delle relazioni vere e significative. E questo attraverso questa esperienza con loro è possibile? Vedono che è possibile, che questa possibilità di felicità c'è. Le relazioni possono anche essere belle e autentiche. La felicità di coppia, per esempio, può funzionare. C'è, esiste. Il ritorno, il fatto che tu sei lì a parlare con qualcuno e a cui qualcuno si illumina e alla fine ti dice «Ah, ma questa cosa qua sì che mi piace! Ah, ma che... Non l'avevo mai visto così! Io pensavo sempre piuttosto ai pericoli o alle cose brutte su questi temi, di sessualità, per esempio, e invece io arrivo a parlare di quanto è bello, di quanto ricco, di quanto fa bene, di quanto fa star bene, di come ci serve per incontrarci. Il rapporto con il proprio corpo, con la propria sessualità, è più tipico delle ragazze, si può immaginare. I maschi in questa cosa come si giocano? Lavorare con i maschi è bellissimo perché sono quelli che si stupiscono di più, e che sono quasi più grati, che gli sia permesso di essere teneri e affettuosi e di riscoprire questo lato. Quando ti hanno chiesto di fare questa testimonianza, tu come hai reagito? Vale, ho detto di no. Subito ho detto di no, non mi sembrava un tema per me. Poi sentivo anche che cosa avrebbero scritto i miei futuri colleghi di libro, e io ho una cosa così forte, cioè nessuno si è ammalato, siamo tutti felici, nessuno si è ammalato, nessuno è morto, abbiamo avuto i figli che desideravamo, cioè non c'è posto in questo libro qua per noi. Dopo però si è aperta questa cosa del parlare dei metodi naturali o parlare di questa cosa bella che faccio, ah, se potessi fare quello, sì, perché chiunque mi invita a parlare di sessualità io ci vado, o dei metodi naturali, io ci vado. Un ragazzo magari può voler conquistare una bella ragazza, ma quando si... e allora fa le cose un po' in fretta, esagera e salta dei passaggi, ma quando si innamora di una ragazza passa ore e giorni a contemplarla e va piano e non se la vuole portare a letto di corsa e vuole fare tutti i passaggi perché vuole che lei stia bene, che sia convinta. Grazie a tutti.